eccoci buongiorno a tutti è sempre bello bellissimo essere qua e io sono sempre emozionata soprattutto perché insomma arrivo da una lunga crisi di astinenza ho saltato la puntata di giugno e non ne potevo più dovevo venire assolutamente allora per chi non mi conoscesse buongiorno a tutti io mi chiamo fabiana sono una partita iva e fatturo da marzo 2012 sembra un po l'introduzione degli alcolisti anonimi ma in realtà come ha già annunciato alessandra in questo talk volevo condividere con voi un po quello che mi è successo in questi ultimi due anni e proprio dal punto di vista del fatturato partita iva allora con molto sorriso addosso posso dire che questo quest'anno che stiamo vivendo questo 2021 si chiuderà per me con il miglior fatturato dall'apertura della mia partita iva non lo dico per solleticare qualche mal di pancia a qualcuno che magari non ha avuto la mia fortuna ma insieme ad altre riflessioni che ho fatto nel 2019 invece che è stato l'anno di minor fatturato della mia partita iva ho voluto applicare un po quello che alcuni metodi il design thinking in particolare ci insegna che quando guardiamo un fenomeno quando guardiamo qualche cosa considerare gli estremi guardare gli estremi i picchi e i buchi neri ci insegna sempre qualcosa di molto interessante ed è l'operazione che appunto ho voluto fare rispetto a questi ultimi tre anni di fatturato allora che cosa è successo in questo ultimo anno che ha portato a conseguire questo risultato allora sicuramente è intervenuto quello che io chiamo fattore c e il fattore c per me è stato che finalmente quest'anno tutte le attività si sono svolte online io mi occupo di coaching di formazione di consulenza aziendale e nel mio ambito e non so immagino anche in molti dei vostri ambiti ma i clienti per la maggior parte sono ancora della scuola di pensiero che di persona è meglio e diciamo così nonostante io avessi cercato in più occasioni anche negli anni precedenti di spingere i clienti ad accettare delle relazioni a distanza diciamo così le cose non erano andate a buon fine se non nei casi di estrema urgenza emergenza bene nel 2020 l'estrema urgenza emergenza c'è stata e quindi anche se qualcuno a fine 2020 diceva ancora va bene rimandiamo tanto l'anno prossimo si fa in presenza una buona parte di clienti finalmente se ne è fatta una ragione si era assegnata al fatto che potessimo anche lavorare a distanza questo ovviamente ha portato uno all'eliminazione totale dei tempi morti di commuting anche se insomma il tempo in treno è sempre diventato tempo di lavoro ma comunque ovviamente non può essere produttivo al cento per cento dall'altro lato questa cosa mi ha dato un po il dono dell'ubiquità che nessuno di noi riesce a sperimentare nella vita terrena perché perché in una stessa giornata io ho scorso la mia agenda di questi ultimi mesi mi sono accorta che nella stessa giornata riuscivo a essere a bergamo lucca padova firenze cosa che nella migliore ipotesi nella vita precedente forse ce la potevo fare a fare un milano verona padova se ero brava a pianificare e se strada facendo per trenitalia o sulla 4 non succedeva qualche cosa quindi diciamo che la come dire il venire meno del vincolo dello spostamento fisico ha consentito molti gradi di libertà in più nella gestione e nella pianificazione dell'agenda quindi in questo caso il fattore c è stato c un po come culo perché è successa questa emergenza a cui nessuno poteva dire di no e c come coronavirus che è il nome che l'emergenza ha avuto il secondo fattore che ho constatato mi ha portato a avere un ottimo fatturato quest'anno è stata la convergenza della domanda cioè mi sono accorta che le richieste che arrivavano da parte dei clienti essendo la situazione esterna una situazione comune a tutti si erano praticamente concentrati su due o tre temi in generale per l'ambito in cui lavoro io sono stati naturalmente lo smart working e soprattutto da parte delle aziende sono state il come tenere insieme la vita personale e la vita professionale lavorando da casa che questo è il livello advanced del tema degli equilibri e in qualche modo anche la riorganizzazione delle attività quindi questi sono stati gli elementi che come dire mi hanno portato bene in in questo ultimo anno allora ovviamente uno constata legge le cose legge gli eventi e poi incomincia a ragionarci sopra e cito qui un post che miriam bertoli ha scritto un po di settimane fa e che ha innescato nella mia testa un po di riflessioni miriam raccontava in questo post di un ritorno diciamo così alla normalità di una trasferta per andare da un cliente per fare una riunione il piacere del caffè il ritorno del viaggio della trasferta e via dicendo ma si interrogava anche sul fatto di come un sistema vecchio potesse stare in piedi sul fatto che ci volessero cinque ore di viaggio sei ore di viaggio per fare due ore di riunione e questa questa riflessione anche a me ha portato ad altre riflessioni la prima qui sono arrivata la prima cosa che credo di aver imparato in maniera direi abbastanza profonda da questa esperienza di questi due anni è che la relazione è un valore il post di miriam lo faceva comprendere bene cioè il piacere della relazione con il cliente la chiacchiera che non è solo un momento di piacere di un piacere ma anche un momento di condivisione che ha una certa rilevanza per la relazione che abbiamo con i nostri clienti qualunque mestiere noi facciamo ha un valore quella roba lì e la domanda diventa poi che valore ha e che valore giusto che abbia allora in generale credo che la relazione sia un valore e che non abbia un valore diverso se si tratta di relazione online offline perché quello che rende veramente di valore una relazione è l'autenticità di quella relazione la presenza lo scambio diciamo così generativo che c'è tra le due persone e questo secondo me è una consapevolezza profonda da portarsi a casa perché non sempre ce ne rendiamo conto e non sempre i nostri clienti se ne rendono conto quindi che credo che una domanda importante su cui interrogarsi sia come poter avere delle relazioni di valore con i nostri clienti anche online e non nonostante siamo online no quindi questa chiave credo che sia anche una chiave importante per accompagnare appunto i clienti a ragionare su questo piano questa riflessione più filosofica più umana e filosofica mi ha portato poi a due ragionamenti invece proprio e se volete anche a due cambiamenti sul modello di business un tema importante il tema del pricing allora io non sono mai stata una svizzera dal punto di vista del pricing rispetto alla corrispondenza tempo lavorato preventivo pricing ho sempre preferito l'approccio che collega il pricing al valore che io riesco a portare al cliente e una riflessione importante qui è stata chiedermi se in che modo era cambiato il valore che io ho portato al cliente negli ultimi due anni lavorando in una maniera completamente diversa e la risposta è stata che per almeno l'85% dei progetti il valore aggiunto che posso portare al cliente non cambia e non è minore se lavoro online o lavoro offline questo fatto salvo una serie di progetti altamente personalizzati in cui invece veramente la compresenza delle persone ha un grosso 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 valore aggiunto e ho voluto condividere con voi questa cosa perché mi è capitato nell'ultimo anno anno e mezzo di parlare con molti colleghi freelance che invece mi raccontavano di aver abbassato il loro pricing perché mi dicevano eh ma mi rendo conto che online è qualcosa di meno che offline e personalmente senza poi entrare nel merito delle singole attività l'ho trovato un po' un autogol perché un mio vecchio vecchissimo capo che non era un bravo capo come direbbe Domitila Ferrari ma era uno che di business ne capiva abbastanza mi ha sempre fatto questa domanda ma se tu abbassi il prezzo al cliente mi spieghi come farai poi a rialzarglielo in un altro momento e questa mi è sembrata di nuovo un'altra consapevolezza importante tant'è che sono arrivata a questa conclusione che dall'anno prossimo il mio pricing avrà una forma molto diversa rispetto a quello che ho avuto finora ovvero per quell'85% di attività in cui io so benissimo che il valore aggiunto che posso portare al cliente è lo stesso lavorando online ci sarà un pricing se il cliente dovesse chiedere per sue esigenze di volermi assolutamente in presenza è come quando si compra un'auto, si compra un modello base ci sono anche gli optional, però gli optional si pagano quindi il pricing in presenza per quelle attività per quello che mi riguarda sarà aumentato di una percentuale su cui sto ancora lavorando però il concetto per me rimane importante da questo punto di vista l'altra e ultima riflessione riguarda invece come vi ho raccontato prima tutto ciò che riguarda la convergenza della domanda la convergenza della domanda è qualcosa che è accaduto non l'ho scelto io, è stata la congiuntura astrale la congiuntura degli eventi che ha portato a questo fatto e mi sono poi chiesta come e se in che modo posso invece fare in modo che questo fattore in futuro che mi ha portato molti benefici in termini di ottimizzazione possa in qualche modo anche dipendere da me e quindi anche se i bisogni del cliente non dipendono direttamente da me ho pensato che un'operazione di ritargettizzazione dei clienti e un approfondimento sui loro bisogni possa essere la chiave di questo andando un po' a individuare idealmente i temi su cui concentrarmi ogni anno su cui fare anche promozione ogni anno e marketing perché riuscire in qualche modo a far convergere l'offerta su determinate tematiche ne può avere un beneficio notevole sia nel breve periodo sia per tutto quello che riguarda poi anche il cross-selling futuro quindi diciamo che anche se non è qui a poterlo condividere con me mia nonna mi raccontava sempre una frase mi diceva sempre una frase che è non tutti i mali vengono per nuocere ed è stato così anche in questo caso quella che ho voluto condividere con voi è stata un po' una consapevolezza filosofica sulla relazione e due invece riflessioni più importanti sul cambio al modello di business se avrete voglia di fare due chiacchiere poi dopo nei nostri momenti di pausa mi piacerà che anche voi mi raccontiate che cosa è successo al vostro business in questi due anni grazie 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 grazie